Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. È davvero un onore essere qua con voi. Ci sono stato con Luisa poche settimane fa per un altro evento. Ci ritorno ben volentieri, anche se non è una veste un po' particolare, visto che quest'oggi si parla della veste di Reve Segone. Benvenuti a tutti e grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.